I carabinieri della stazione di Butera hanno fermato tre gelesi, Giuseppe Cavallo 51 anni, Vincenzo Piscopo 32 e Carmelo Cavallo 24, per furto aggravato in concorso. I tre sono stati sorpresi in una zona di campagna di Butera dopo la segnalazione di un passante, mentre raccoglievano uva da un fondo agricolo di contrada a Suor Marchesa. Complessivamente circa 500 kg del tipo Italia già adagiata nel cofano di un'auto. La frutta, per un valore complessivo di 3.500 euro circa, è stata interamente restituita al legittimo proprietario, mentre i tre fermati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.